Una buona giornata dal telegiornale di Canale 10. Gli incidenti stradali sono in calo nella provincia di Firenze ma se andiamo a vedere quali sono le cause più frequenti degli incidenti stradali ci sono anche alcune sorprese. Vediamo. L'eccesso di velocità rimane chiaramente una casistica importante perché causa incidenti gravi o morti soprattutto nelle strade dove non si può andare troppo forte. Per cui è indubbio che dobbiamo riuscire in tutti i modi attraverso la campagna di sensibilizzazione ma anche attraverso la ripressione con gli autovelox a far capire che ci sono strade su cui non si può andare e le velocità con cui invece si percorre le autostrade. Questa è una delle cause e poi molto cause proprio dalla disattenzione, da non usare le autole giuste anche da parte dei pedoni. Per esempio ci sono cause di incidenti determinate in cui sono coinvolti i pedoni in cui spesso è il pedone a fare l'infrazione. Per assurdo, è il soggetto svantaggiato per noi sicuramente da guardare con attenzione però a volte l'incidente molto spesso causa anche per la disattenzione, per non aver rispettato la norma banale attraversare sulle strisce, attraversare con le regole che questo comporta. I carabinieri hanno scoperto due imprenditori lucchesi che avevano pagato un invalido per ottenere i suoi dati così da far attribuire a lui i punti da scalare dalla patente di guida a causa delle infrazioni al codice della strada. Un sistema che è costato loro una denuncia per falso sostituzione di persone e truffa. Secondo i militari la vicenda è iniziata quando i due imprenditori hanno chiamato un uomo di 56 anni riconosciuto invalido civile al 100% ottantogli 70 euro in cambio della fotocopia della sua patente di guida e della sottoscrizione di un foglio riportante i propri dati anagrafici. Successivamente i due guidando un SUV di proprietà dell'azienda hanno commesso una serie interminabile di gravi infrazioni al codice della strada. E parliamo di sicurezza ancora sulle strade. Se ne è parlato ad Arezzo in occasione della giornata del soccorso partecipata da giovani e giovanissimi. Ci racconta Greta Settimelli. Il sangue è un trucco ma il pericolo esiste veramente. È stata la giornata del soccorso organizzata da Strasicura, la cittadella della sicurezza stradale, il momento in cui tutti gli enti preposti al pubblico soccorso si sono messi in gioco, anzi è il caso di dire in scena, per simulare due gravi incidenti stradali con quattro feriti. Grazie alla maestria dei truccatori della Croce Rossa tutto sembrava vero, dalle ferite alle lamentele, dalle auto incidentate ai soccorritori che arrivavano sul luogo della tragedia. Ma queste scene purtroppo sono sempre più ordinarie sulle strade di tutta la provincia di Arezzo e lo scopo dell'iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica ancora una volta perché sulla strada vinca la vita. Ci hanno fatto riflettere sull'incidentalità, su quello che succede tutti i giorni purtroppo nelle strade che magari noi spesso sottovalutiamo perché pensiamo sempre che accada qualcun altro. Sono intervenuti quattro mezzi della Croce Rossa di Castiglion Fiorentino, della Misericordia di Castiglion Fiorentino, della Misericordia di Cortone e dell'Avis Croce Bianca di Foiano. Li voglio ricordare tutti perché sono stati veramente, veramente grandi, grandi nello stare insieme a noi a promuovere la cultura della sicurezza stradale. Oggi è stata un'altra giornata importante per Strasicura, nel segno sempre dell'educazione alla sicurezza stradale e del raggiungimento del nostro obiettivo, tutti insieme a coloro che l'hanno a cuore, cioè salvare vite. E potrebbe essere dedicata al fumetto italiano rappresentato per l'occasione da Lucca Comics & Games, l'edizione 2011 del FICOM di Barcellona, un'importante manifestazione con 28 anni di attività alle spalle. Lo fa sapere l'assessore alla cultura del comune di Lucca, riferendo a che il direttore di Lucca Comics è appena rientrato da una trasferta in Spagna, in Russia, invitato dai festival di Barcellona e di Mosca, al Comisia di Mosca in particolare. Lucca è stata presente con tre mostre di prestigiosi autori italiani, Alessandro Barbucci, Massimiliano Frezzato e Dausoni. Il 2011, sottolinea il comune di Lucca, in una nota sarà l'anno che i rispettivi ministeri degli esteri dedicheranno ai rapporti tra Italia e Russia, per cui è stato elaborato da Lucca Comics un programma già presentato al comitato che si occupa di gestire questo evento. E chiudiamo con la notizia che arriva da Viareggio. Due marocchini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. I due stavano utilizzando una casa abbandonata alla periferia di Viareggio come base per la loro centrale dello spaccio di droghe. Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo la prossima edizione delle News alle 19.30 su Canale 10. Vi ringrazio per averci seguito.